Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Il Papa Benedetto XVI ha tenuto la sua penultima udienza generale nell'aula Paolo VI prima del suo ritiro annunciato per il 28 febbraio. Il Papa dunque rinuncia in piena libertà per il bene della Chiesa dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la sua coscienza, ben consapevole della gravità di questo atto, ha detto il Pontefice. Ho sentito quasi fisicamente in questi giorni per me non facili l'amore che mi portate, ha detto ancora il Papa. Oggi non si può più essere cristiani come semplice conseguenza del fatto di vivere in una società che ha radici cristiane. Anche chi nasce da una famiglia cristiana ed è educato religiosamente deve ogni giorno rinnovare la scelta di essere cristiano, cioè dare a Dio il primo posto, di fronte alle tentazioni che una cultura secolarizzata gli propone continuo, di fronte al giudizio critico di molti contemporanei. Per quanto riguarda Bersani, capo di una coalizione PD-SEL, sono preoccupato circa la possibile sintonia con le visioni mie e della mia iniziativa politica. Come ho detto fin dall'inizio all'onorevole Bersani, quando negli ultimi mesi del governo si parlava di futuro. Tengo a ribadirlo, chiaramente non c'è stata nessunissima forma di apertura da parte mia nei confronti di Vendola. Dire che le persone possono cambiare, opinione era solo un modo gentile per dire che le opinioni di Vendola sono rispettabili, ma per me non in linea con gli interessi del Paese. Lo ha ribadito il Presidente del Consiglio, Mario Monti, in un video forum con l'ANSA. Conferma il leader Centrista Casini. Questo è uno dei temi, non soltanto questo, che vi divide un po' dalle posizioni per esempio di Vendola, che ha detto mai in un governo insieme. Sì, ce ne faremo una ragione. Tutto sommato siamo abbastanza tranquilli e sereni. Diciamo così, che condividiamo con Vendola l'idea di stare distanti l'uno degli altri. Per quanto riguarda copie di fatto e gay, un altro tema sensibile di cui si parla? Beh, noi siamo per riconoscere i diritti alle copie conviventi, punto e basta. Le famiglie sono composte da un uomo e da una donna e non riteniamo che due omosessuali possano costituire un nucleo familiare, possono convivere liberamente come già possono fare. Mi fa piacere che con tutti i problemi che abbiamo, con tutto il populismo che c'è in giro, francamente andassero sempre a prendere con Vendola, mi sembra un po' esagerato, no? Con tutti i problemi che abbiamo, che sono enormi, i populismi dilaganti, mi sembrava esagerato. Quindi se comincia ad esserci una correzione, sono molto contento. Poi siete stati traditi, traditi sempre, tutti siamo stati traditi. Dalla politica ai partiti, i partiti fanno l'ospedale, gli fanno un bel ospedale, poi ci mettono il direttore sanitario, uno nominato da Formigoni, e poi dentro ci mettono la gestione dell'ospedale, comunione e liberazione. E' tutto così! Non è la politica! Sono i partiti che sono dentro qualsiasi cosa! La più grande, sì in meccanica, la più grande azienda che abbiamo, 70.000 dipendenti, il 32% è dello Stato, dentro chi sono stati nominati? Dai partiti! Hanno arrestato adesso Orsi, orsi ce l'ha messo lì Maroni! Ma non è che Maroni sia disonesto, è che Maroni è della politica, è di un partito e ha messo di un suo uomo! E l'Emi, l'ente nazionale, l'Ideo Carpuri, la seconda società più grande che abbiamo, ci c'è, ci ha dato questo Scaroni, già condannato, per, 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 a me! Sono talmente incazzato! Mi devo calmare! Perché se mi viene un infarto a me siete rovinati tutti! Non mi viene! Non mi viene! Non mi viene! . Grazie a tutti.